Ciao amici dei Lega Nerd e dei Mattoncini, sono Simone Bissi, l'editor di Bricknouse. Oggi vi parlo di Lego Leaks appena usciti, proprio appena sfornati, legati al mondo di Harry Potter e Brickettes e legati al tanto atteso tema medievale che potrebbe fare un ritorno. Parlando quindi dei leaks e dei rumors legati al mondo di Harry Potter, che quest'anno festeggia i vent'anni della saga, abbiamo questa scatola che è venuta fuori in un negozio della Repubblica Ceca, quindi senza alcun marchio di confidential, legata alla serie, al tema Brickettes, che sembrava morto ma in realtà lo hanno un po' riciclato per farci altro, per farci questi piccoli oggettini tipo regalo o similari, dove troviamo non una, non due, ma ben quattro figure legate al mondo di Harry Potter e fondamentalmente ai primi due episodi della serie. Abbiamo quindi Hagrid in una nuova veste, perché l'avevamo già visto con Fiero Becco in un Brickettes sempre dell'anno scorso, abbiamo Harry Potter, ovviamente, Hermione e Ron. Il set è un 10+, ed è numerato 4495. Non è presente nella foto l'indicazione del numero pezzi, ma quello poco importa, la cosa particolare è proprio questa nuova versione A4. Qui vediamo Harry Potter con la classica cicatrice sulla fronte e i due occhialoni giganti. Interessante vedere che non hanno utilizzato il formato degli occhiali che era nato proprio per i Brickettes giganti, ma hanno usato due tile round, due per due, serigrafati con gli occhi esplosi. Abbiamo Hermione e Ron, ed infine Hagrid, appunto, con il suo ombrello rosa, e qui lo vediamo nella versione del set 40412 con Fiero Becco, che era uscito appunto anno scorso. La versione nel nuovo set, che uscirà presumibilmente fra qualche mese, è effettivamente un po' più liscia, quindi ha un po' meno stud rispetto alla versione che avevamo visto, come voler dire una sorta di Hagrid un po' più giovane. Oltre quindi a questo rumor, che non è tanto rumor, abbiamo invece una foto molto molto interessante, legata a questo castello Lego Creator 3 in 1, quindi la classica confezione dove possiamo poi fare tre cose con una sola confezione. L'anno scorso lo avevamo visto sul veliero dei Pirati, molto interessante, e qui lo ritroviamo invece in questo castello che segue un po' la linea del medieval blacksmith Lego DS, che è uscito proprio qualche mese fa, dove potremmo costruire un molino a vento, oppure una torre, oppure questa porta d'ingresso per il castello. Il codice del set è 31120, in questo caso appare ancora il marchio Confidential, quindi ancora in fase confidenziale questa immagine e tutti i dati relativi, però l'utente di Instagram che l'ha condivisa poi ha indicato che sarà disponibile dal primo di giugno e il costo sarà 100 dollari. Molto molto interessante. Altre indicazioni su questi set rumoreggiati non ce ne sono, per cui per questa settimana i rumors sono questi qua. Se vi è piaciuto il video, un bel mi piace, iscrivetevi al canale per avere la notifica delle ultime news in tema Lego. Questo è tutto, ciao a tutti ragazzoli!